I carabinieri della Compagnia di Acireale, in collaborazione con i reparti specializzati dell'arma, cioè la Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Sicilia, il Nucleo Alicotteri e il Nucleo Civinofili, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP al Tribunale di Catania su richiesta della procura distrettuale etnea. L'indagine, chiamata Demolition, ha consentito di fare piena luce sull'attività illecita posta in essere da un sodalizio criminale principalmente fondato da un nucleo familiare che, partendo da una base logistica individuata all'interno di un bar di AC Bonaccorsi, estendeva i suoi interessi spaccio al minuto di cocaina in altri comuni dell'Interland catanese. I militari dell'arma, oltre a tratteggiare i ruoli ben definiti di ciascuno degli indagati insieme all'associazione, hanno registrato la presenza di bambini durante alcune fasi dell'attività illecita. Il capo dell'associazione è stato ripreso infatti alle telecamere mentre ritirava la droga in presenza delle nipotine.